Ciao, in questo video vedremo come cancellare i mondi Minecraft. Questa semplice operazione ci permette di tenere ordinati i nostri mondi e di cancellare dunque quelli di cui non abbiamo più bisogno. Vediamo insieme come fare. Clicco sul pulsante gioca ed accedo alla lista dei miei mondi. Guardate quanti ne ho. Il mio obiettivo è quello di voler cancellare questi due mondi. È sufficiente cliccare su questo pulsante, la matita che è posizionata sulla destra, cliccare, scorrere in basso con la rotellina del mouse o utilizzando la barra laterale e selezionare infine il pulsante elimina il mondo. Ci compare questa ulteriore schermata, clicchiamo elimina e il mondo viene cancellato. Vedete è scomparso. Cancelliamo adesso il secondo mondo ripetendo la semplice stessa operazione, elimina il mondo, diamo la conferma ed abbiamo cancellato anche il secondo mondo. Come vedete è un'operazione molto semplice ma che ci permette di eliminare velocemente i mondi di cui non abbiamo più bisogno. Ciao e a presto. Ciao e a presto. Ciao e a presto.